Complesso del fazello inutilizzabile per rassegne teatrali ed altre manifestazioni ed è esplosa l'ultima grana dell'estate saccenze. Problemi di sicurezza, di verifica dell'agibilità, venuti fuori a poche ore dal primo spettacolo in programma in quel sito. E così, come abbiamo riferito nei TG di ieri sera, la Compagnia Teatro Oltre ha dovuto traslocare in fretta e furia all'Arena Giardino della Badia Grande per far esibire la prima compagnia teatrale nell'ambito della rassegna franco-catalano. Una vicenda che ha dell'incredibile se si pensa che proprio il fazello era diventata la location di molte rappresentazioni teatrali ed altre iniziative previste per l'estate saccenze. Un vero e proprio cartellone di manifestazioni, quello annunciato e che adesso salta. Un dato è certo, infatti il complesso del fazello è inutilizzabile e non è detto che si riesca a trovare un sito alternativo a tutte le altre manifestazioni in programma, con costi che peraltro le compagnie locali speravano di evitare utilizzando lo spazio all'aperto del primo circolo didattico. Dopo aver sperato di tornare ad utilizzare l'atro inferiore del palazzo municipale, l'indisponibilità anche del fazello è una batosta per chi da mesi lavora ad un nuovo spettacolo, teatralo, musicale e ovviamente per la Giunta Valenti. Vicenda che sfocia infatti nella polemica politica con il consigliere Giuseppe Medioti che ha già presentato un'interrogazione con la quale chiede spiegazioni all'amministrazione in relazione ai problemi emersi solo ieri e che hanno comportato l'impossibilità di utilizzare la struttura. Per il consigliere di opposizione si tratta dell'ennesimo esempio di improvvisazione che finisce con il penalizzare quanti cercano di proporre manifestazioni in grado di intrattenere esercenze e turisti. Amministrazione accusata di non saper supportare tale iniziativa dal punto di vista logistico e non solo. Migliotti rimarca infatti anche l'assenza del sindaco assessore alla cultura alla presentazione del libro della scrittrice Chiara Francini ma anche il mancato sostegno economico e organizzativo pur essendo l'iniziativa inserita nel cartellone delle state esercenze. Adesso, conclude Migliotti, si fa venire meno anche il sito del complesso Fazzello. Sulla vicenda è intervenuto anche il collega di opposizione ed ex assessore al turismo Salvatore Monte. Siamo ad un punto di non ritorno, dice, con l'atro inferiore del comune, l'atro del Fazzello e il teatro popolare off limits. In considerazione delle norme vigenti che sembrerebbero impedire l'utilizzo di alcuni spazi per Salvatore Monte è ormai indispensabile iniziare a programmare l'utilizzo di un luogo idoneo anche durante l'inverno. La proposta che pone all'attenzione dell'amministrazione è quella di concordare con la regione l'utilizzo e incomodato d'uso dell'auditorium di San Francesco. Intanto però c'è da affrontare l'estate e capire come e dove svolgere le manifestazioni nelle prossime settimane. Grazie a tutti.